John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel secondo episodio con la carriera con José Murigno Come sempre vi ricordo che questa è la carriera per gli iscritti quindi insomma se lasciate tantissimi mi piace ma tantissimi 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 Già domani potrebbe uscire un nuovo episodio altrimenti ve lo porto tra 3-4 giorni quindi con molta calma Se no se lasciate tantissimi mi piace ve lo porto già domani Inoltre vi ricordo una cosa, vi ricordo che c'è anche la mia carriera privata Però quella lì la pubblico solamente per gli abbonati come ringraziamento per chi si è abbonato Mi sembra un plus giusto da dare per chi invece ha deciso di spendere quei soldini per supportare il canale Sono 2,99 euro e c'ha diverse cose quindi uno o due video extra C'ha la carriera allenatore con la Roma extra e la possibilità di entrare sul gruppo segreto di Telegram Quindi c'è un pochettino, se vi interessa vi lascio qui sotto tutto Vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare un commento perché voglio sapere da voi, secondo voi, chi dovrei comprare qua sotto Se non l'avete visto andate a guardare il primo episodio che è uscito qualche tempo fa di voi ieri Vabbè, è uscito pochi giorni fa ragazzi con Giuseppe Murigno Cosa è successo? Allora siamo arrivati qua alla finale contro i Lillestrom Ok abbiamo fatto mercato, abbiamo preso Gbowo, abbiamo preso Arao Yuri, abbiamo preso Bagayoko, abbiamo preso Lanti, abbiamo preso Mosen E adesso ho fatto una cosetta, mentre voi insomma eravate di là a fare la cacca Ho fatto una cosetta, sono andato a cercare giocatori come, vi faccio vedere Allora giocatori come Karagen, Tonev, Rai, Shakraborty, cioè se Shakraborty è forti io me lo prendo perché ragazzi è un nome della Madonna Shakraborty Furman, Sangu, Ndelev, El Solia, Figuera, Figuera, questo ti fa schifo al cazzo, leviamolo Ecco, perché mi servirebbero centrocampisti e esterni d'attacco Se riuscissi a prendere qualcuno di decenti tra gli svincolati potrei fare uno Stephen Age veramente fortissimo Qual è l'obiettivo? L'obiettivo ragazzi è quello di andare a vincere la Champions League con lo Stephen Age Quindi cerchiamo di fare il più possibile Detto questo andiamo immediatamente a simulare quest'ultima gara Vediamo se riusciamo a vincere questa coppa internazionale europea Abbiamo vinto Goldie Lucky le doppietta di list che ragazzi io volevo sostituire ma continuo a segnare come un cane malefico Abbiamo vinto la coppa, sono veramente fiero, sono veramente piero di voi Cos'è successo qui? Ecco qua, abbiamo vinto 500.000 euro e sono molto contenti della prestazione in coppa Tra l'altro abbiamo questi soldi qua, 2 milioni Dobbiamo però far più soldi perché vi faccio vedere Io volevo comprare, lo volevo prendere uno per lo staff primavera, un osservatore Il problema è che, ah aspettate è cambiata qualcosa Ecco qua, prendiamo Bory Bowman, c'ha 3 stelle, mi sembra abbastanza buono Facciamolo, lo volevo licenziare immediatamente ma facciamo seguire qualche giocatore a Bory Bowman Magari tipo in... andiamo in Sud America Andiamo in Sud America ragazzi, andiamo in Brasile Andiamo in Brasile a cercare qualche fottuto talento per Bory Bowman Vai Bory Bowman, torna con qualche giocatore De quelli succosi cazzo, de quelli che mi fanno godere Che mi bastano loro praticamente, mi basta un paio di quei giocatori per andare a fare la Champions League tra qualche anno Intanto cercano, continuano a prendermi Sono a pera, però sono pera, io vado a trattare Perché vorrei almeno 350 mila euro da questo giocatore I soldi ragazzi ci servono come il pane, like a pane E quindi cerchiamo di tirare su, insomma la somma, la cifra un pochino più alta Io vado a dire 380 mila nella speranza che loro non scappino E poi vado su 350 mila Ok allora hanno messo una clausola 270 mila è la nostra ultima offerta Beh ragazzi, 59, sei incazzato Allora va a fanculo pure a te Il tempo va, passano le ore Allora abbiamo nuove notizie, sono tutti reso conti E c'è un'offerta per Sonapè Che forse già avevo visto No, c'è un'altra offerta per Sonapè Deleghiamo, mi sono rotti i coglioni Come potrete vedere c'è un tassello vuoto Perché non l'abbiamo fiondato dalla finestra Però potremmo allenare questo list Che non è cattiva Ma a me sembra proprio un bel giocatore ragazzi Mi sono fatto malissimo In questo momento io non ho spappolato la mano Che dolore atroce Ora io sembra che non provi emozioni In realtà è proprio così Non provi emozioni per il dolore Cazzo che dolore List List ha fatto B List ha fatto B Quindi lista B Sì hanno accettato di pagarlo 330 mila Accettiamo Mamma ragazzi Ci leviamo Sonapè Dei coglioni Abbiamo 1.900 euro al mese Che praticamente è quello che Pia Mizzio Non lo so Quando va Quando va a spazzare Intanto guardate che Quanto pazzo Si allenano bene i nostri giocatori B A B B Poi c'è Parkhouse Che sarebbe più che se si vedesse in casa Hashtag io resta a casa Soprattutto se mi chiamo Parkhouse Non so allenarmi Santi Dio Un campionato ragazzi a 24 Squadre Non finisce mai Mi ho venduto su una vera Dicevo È il giorno del mio compleanno Il 20 Sì il 20 Il 3 agosto Quindi ricordatevelo nel caso Fatemi gli auguri Si inizia il campionato Allora contro ZV Jackson Ciao ZV iniziamo il campionato Io chiedo 300.000 Io chiedo 300.000 Magari ci cascano 260.000 Io chiedo 300.000 Magari ci cascano Io chiedo 280.000 Io chiedo 290.000 Magari ci cascano Ragazzi Ok l'ho accettato Magari se perdo qualche eccessione Poi la rifarò dopo Ma per il momento ho bisogno di soldi Ho bisogno di soldi E sta per iniziare il mio campionato ragazzi Non abbiamo ancora gli esterni d'attacco Ma potremo prenderli oggi Allora Byron Allora innanzitutto qui Cosa sta succedendo La storia delle tue offerte Newton Per Newton andiamo a trattare Ma voglio tipo 600.000 euro Cioè voglio un sacco di soldi per Newton Newton ragazzi è quello che ha fatto la storia Non è che è l'ultimo dei coglioni Allora Sai che c'è che Me l'ha chiesto lo Jagiellonia Che comunque mi sembra una squadra Molto figa Cioè nel senso lo stemma Ragazzi guardate che stemma Lo vorrei io lo stemma dello Zagiellonia Eh ho chiesto troppi soldi Vabbè allora ciao Jagiellonia Sto attrezzando un buon momento Voglio giocare Dice Cachbert Ci penserò Ma tanto non te farò giocare Perché ormai i miei titolari Io già li ho scelti Giochiamola prima con il Salford La formazione è la seguente L'avete vista Eccola qua Però io voglio andare prima A comprare un paio di giocatori Con i miei soldini Che ho messo da parte Andiamo subito a vedere Quelli che potremo prendere Innanzitutto ci serve Un esterno destro Questo non è male per niente Questo sarà il mio esterno destro Ragazzi Questo l'ho scelto Ti ho scelto L'ho visto E mi sembra un giocatore più che valido Ned e Levi Sto facendo una rivoluzione Come avete potuto vedere ragazzi Per cercare di venire subito In Ligue 1 No Ligue 1 Ligue 1 è un'altra cosa 3 anni Io vorrei 4 Si può fare 4 Si può fare 4 4 anni Vabbè Fino a 30 anni Ti tengo Ignoro la clausola Ok Un'offerta è Qua so che potevo scendere Però ragazzi Non me ne frega niente È un giocatore giovane Comunque relativamente giovane Per quelli che abbiamo Shagraborto Ho detto Speriamo sia forte È uno shagraborto Cioè nel senso 46 Rage 46 46 Mi nonna quando va a comprare il pane C'ha più talento Non ho parole Questo è Tonev Tonev Compriamo quando finisce I cartucci dalla stampante Eh ma tocca a comprare Tonev ragazzi 67 Tocca a comprare Tonev Però vi dirò No l'hanno comprato Tonev L'ha preso il Sidney Senti allora va a fanculo Tonev Senti a sinistra per il momento Non prendo nessuno Non me ne frega niente Tanto c'ho quello là Che continua a segnare Come un porco Centrocampo Questo Furman Non è per niente male Ma pure questo non è per niente male Ma pure sto Fighera Non è per niente male Prendiamo Fighera Prendiamo Fighera Eh eh oh oh Mazza quanti sordi prendi Sei cruciale che si Fighera Che Fighera Madonna mia La gente sembra Sense di Limitless Allora Andiamo a prendere 4 anni 4 anni Oddio ho fatto troppi anni di contratto 2 anni va bene così Ma l'ho sbagliato Pensavo fossi più giovane Fighera ho visto il numero 2 Prima del 9 Ho detto mi sono mezza rapato Allora No niente costi aggiuntivi Niente costi aggiuntivi È come la team ragazzi Eh questo vuole più sordi Però 6.500 ci può stare Va bene Fighera Va bene Gianni Murigno Ci vuole E andiamo a prendere anche Furman Gli autori piuttosto furbo Furman Ho deciso che fare un colpo di tosse Per ogni puntata della carriera Eh due anni che si Quanto vuoi C'ha 31 anni C'ha 31 anni Ignoriamo la clasura recessoria Vai Leviamo il bonus sui gol Vai Mazza c'è rimasto un niente Mazza stiamo a finire i sordi Accettiamo Accettiamo Stiamo a finire i sordi Però stiamo a finire pure la squadra E poi è il Solia No No l'hanno preso L'hanno preso E ci hanno messo una clasura di 2 milioni e mezzo Lo prendiamo in culo Comunque non riusciamo a prendere il mediano ragazzi Non si riesce Allora fatemelo sapere Se io non devo prendere un mediano Perché almeno mi metto l'anima in pace Dico vabbè allora io il mediano non lo prendo No non lo Io il mediano non lo prendo Più io mi impegni per prendere dei mediani E più i mediani qui si valutano Si stravalutano Allora Niente ve lo mettiamo qua Fighera poi c'ho pure il mediano Ci metto Fighera che è più forte Cioè è una bella squadretta Pazza quanti siamo Mamma sene Siamo un po' tanti raga Noi di voi è felice Poi se non lo metto qua Tocca Chi lo sente questo Voi non lo sapete Ma io lo conosco Questo poi si lamenta Portiamo pure Kennedy che è felice Mister Kennedy No però Farman Non si può lasciare a casa Farman è lo stesso che Mortacci suoi Ha fatto saltare la trattativa Io ero lì tutto Gazzato Ho detto ce lo siamo tolto dai coglioni Eppure Michael Smith Ha detto io vorrei giocare Però Michael Smith io non ti posso lasciare a casa Perché se no qui mi strafalci i coglioni Allora mi sembra Però ZV Jackson ce lo portiamo Al posto di Taylor forse Dai ci portiamo ZV Jackson al posto di Taylor La formazione è fatta La formazione è fatta Andiamo a giocarcela Madonna ma chi è Arlecchino Ma che squadra Ma che maglietta c'ho Ma che è Ma che è Allora regà Io gioco campione Non mi è cominciato a dire Gioca leggenda Perché a me se no Se gioco leggenda Mi arano il culo Me lo fanno così a tocchetti Quindi gioco campione Dallo stadio Siamo pronti a vedere Salford Stevnage Ragazzi Io devo assolutamente Immediatamente Per forza di cose Devo Obbligatoriamente Ma che cazzo sto dicendo Mamma mia ragazzi Ci siamo Mamma mia che ansia Mamma mia che ansia Salford contro Stevnage Il nostro debutto in campionato Qua da quello che ho capito Ho 24 squadre Ci sono più squadre qua Che in tutto il mondiale Quindi bisogna per forza di cose Dimostrare di essere una squadra Chiedo scusa se faccio schifo al cazzo Ma purtroppo è la mia indole Non posso fare altrimenti Palla per List Questo List ha segnato come un cane Fino a questo momento ragazzi In tutte le partite che ha giocato Che ho simulato Ha già segnato sempre lui List Palla per Lanti Guardate come sbaglio Oddio che errore Vabbè Wilson ma chi sei? Ma chi sei? Garrett Bale Ah Ah Dov'è la mia difesa? Spazza Ottimo List dopo questo errore Si è segnato la mia List nera Palla per List Palla per List Eccolo Eccolo che affonda il colpo Eccolo Mettila dentro Mettila dentro Madonna che palla di merda Prendila 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 sei lento Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Oh l'ho salvato Porca troia Comunque non ho la più pallida idea Di quanto siano forti le squadre qua ragazzi Quindi attenzione Tiriamo al volo Tiriamo Madonna che palla Non ho la più pallida idea Di quanto siano forti le squadre qua Quindi Tipo magari sto affrontando La squadra più forte Della AFL League 2 E non lo so O'Connor O'Connor Mamma mia Cannavaro a te le spicci a casa Mazzate che schifo No No Madonna che cosa ha parato il mio portiere Con il braccio di richiamo E allora ricominciamo su Madonna che schifo Ragazzi dobbiamo uscire Figaro ha sbagliato Più pallone in disimpegno Guardalo Chiudi Chiudi Bravo Lo stavamo prendendo Mi sono cagato sotto Vado a cambiarmi le mutande Ecco 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 che il nostro portiere ha sbagliato Ecco Ecco che l'ho sbagliato io No il nostro portiere Sono proprio un coglione ragazzi Sono proprio un coglione Siamo sotto contro il Salford Siamo Guarda 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 Si fa a tuccellare Ma dov'è la mia silvieta Ma dov'è finita Ma come cazzo si fa Ragazzi Io vi avverto che qui vedo una cosa carina Se prende piede sta carina Faccio Faccio gli sfoghi post partita Ragazzi Se prende piede faccio il paggellone Vai list Vai list Vai list Oh a list Però uno Uno lo puoi superare Un uomo Uno Non dico tanto Uno Andate hanno preso questa caritas Ci hai messo due ore a dare il pallone Due ore Due ore Due ore Mamma mia A confronto A confronto Un zonzippa La maratona A confronto Un zonzippa La campestre Oddio Oddio Ma che ha fatto Ma che scemo il portiere Ha fatto una bella parata all'inizio Mi sta facendo ricagare tutto List ma tua madre ha anche dei figli normali Finisce il primo tempo ragazzi Finisce il primo tempo Siamo sotto Uno a zero Tanto qua Stanno più partite Veramente che non so Che giocatori in campo Ma ti rendi conto 24 squadre Quando finimo sto campionato Nel 2000 mai Madonna mia Oh però perdiamo veramente Tanti di quei palloni Towel Towel Madonna ma dov'è la mia difesa Ma dov'è la mia difesa Ma dov'è la mia difesa Bagagnoco vai a scorreggiare Veramente nel lievito Di birra Che palle Eh guarda lì Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Tanto mi dicono Che voglio arzaballo E vado al Bayern Fami sapere che cazzo Me ne frega a me Questa maglietta brutta Ma dove vogliamo andare Via via quel pallone Via Ma uno che parte Ma gli ha chilato La palla La tua fighera La tua fighera La tua fighera Scatta fighera Fighera perché li sei fermato Fighera Eccolo Madonna quanto siamo Madonna quanto siamo lenti Nedelev Era fuori gioco Era fuori gioco Stavo lanciando il joystick Era fuori gioco Non è possibile Suarez Suarez Lo supera Può calciare L'ha presa L'ha presa L'ha presa L'ha presa L'ha presa Adesso ragazzi c'è un assedio Adesso ragazzi c'è un assedio Nedelev Nedelev Guardatelo Guardatelo Va fino in fondo Va fino Quella era mano Arbitro Arbero Quella era mano Cosa è successo Ma perché l'ho buttata fuori da solo Mancano 20 minuti Siamo sotto 1-0 Mo tra un po' metto Mo tra un po' metto ZAV Jackson Almeno magari succede qualcosa Mi si sta anche scaricando la videocamera Ma ti pare che sto perdendo per colpa di quel gol lì Arza da coglione Oh ma vi levate dal cazzo Basta è arrivato il momento Mancano 12 minuti di mettere ZAV Dove sei? Eccolo Al posto di Mosend Che già si è mangiato per qua prima E ora non è più possibile Perdonarti Mi dispiace ma Il tuo l'hai fatto Suarez Palla dentro E palla fuori Io non vedo Non vedo possibilità Madonna che lo stavo prendendo E non dico dove Vai 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 list vai list vai list Continua ad essere il salvatore di questa squadra list Appoggia di Ritaliela In mezzo list Jackson 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 Il primo gol Del Steve Major Come cazzo si chiama Di Napoli E' proprio di Jackson Contro il Salford Ragazzi Di Jackson Cazzo si è godo Cazzo si è godo Adesso però non prendiamolo eh Anzi andiamogliela a fare Ma ma è comunque list ragazzi Alla fine si è rivelato lui Essere l'uomo Della provvidenza Ora Jackson Può darla a Farman Che la alza Perché la alza? Sei proprio un coglione Sei proprio un coglione patentato Ma ma se ci avessero Una patente per i coglioni La darebbero a te Per finire la partita Attenzione non prendiamo E' finita 1-1 In caso del Salford Come te butto Mi va più che bene Non so quanto sia forte il Salford Ma ha segnato proprio ZV Jackson Quindi mi va bene così Quindi mi va bene così ragazzi Mi va bene così Salford Stepenage 1-1 Oggi facciamo senza intervista Post partita La prima Guarda Ciao dove si appallano La prima non si rilasciano interviste La prima non si rilasciano interviste Ragazzi Che sofferenza Che sofferenza Detto questo Detto questo Questa puntata finisce qui Fatemi sapere la vostra Fatemi sapere come concludereste Voi questo calciomercato Vi ricordo Di iscrivervi al canale Come sempre Qui c'è una chat di un giocatore Che dice Mister ci sono rimasto male Per non aver giocato E continuo a lavorare sotto Diamogli Una piccola Un barlume di speranza Io vi invito Come sempre Di iscrivervi al canale Qualora non l'aveste già fatto Tantissimi Tantissimi mi piace Vi ringrazio Per aver visto questo video Ragazzi Lasciate una barca di mi piace Già domani vi parto un'altra puntata Sennò ci vediamo Tra altri 4 giorni Buon c'è la 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 E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video Ciao